e adesso la coperta e questo anche l'avete usato così verde, verde scuro, azzurro e qui c'è l'immagine della cena merlino e cavalieri della tavola rotonda vedremo schettieri e buonanotte 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 ehi non riesci a dormire? come mai? ci sta un po' troppi pensieri nella testa no, non ti preoccupare io ci posso provare a farti dormire vediamo se ci riesco ti faccio superare questo momento in cui vorresti dormire sono sicura ma non ci riesci bene allora la prima cosa che devo fare è rifarti il letto scusa ma con questo letto tu pensi di poter dormire bene? c'è un letto fatto bene ordinato ok sai che uno dei ricordi più belli che ho di quando ero bambina dei miei genitori che mi mettevano a letto e mi facevano il letto quando ero già dentro mi portavano a letto in braccio dal tivano dove mi ero addormentata e mi facevano il letto appunto con me dentro e una sensazione bellissima ok e fa venire subito un sonno incredibile, una voglia di dormire incredibile ok allora ok ok il gazzuolo adesso lo incastro bene sotto ti piace questa sensazione? ok ok e adesso la coperta ok 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 e poi sì ok ok vabbastanza calda per te questa vuoi anche la copertina sopra? ok 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 va bene ok va bene ok è solo inizio inizio, inizio inizio, attuore quindi ok e anche questo lo vissiamo sotto a lei ok, adesso vuoi un altro cuscino? quanti? questo è un po' più sottile senti è stato anche appena lavato? è stato impulito? ok, allora questo qui e ne vuoi un altro? ok, questo è un po' più morbido ok, questo è un po' più morbido è stato po' più morbido e questo anche lo avete usato così d'accordo così lo puoi abbracciare nel sonno va meglio già col letto rifatto? ne sono sicura, ne ero sicura no in realtà questa gommilla sarebbe per me però se vuoi te ne concedo due sorsi no anche perchè in realtà dopo se bevi tanto adesso ti svegli in mezzo la notte per fare la pipì io non va bene io io invece penso di stare alzata un po' ma ancora un po' tanto mi devo ancora struccare poi domani mi sveglio un po' tardi perchè è il mio giorno libero quindi tu domani invece sveglia presto ne sono due sorsini di camomilla dai aspetta ok allora due bei sorsi sono sufficienti mi piace ok uno bene e due ok sì è quella è la camomilla in fiori no no non quella in bustina quella che ho preso nel puristeria ti ricordi sei venuta con me? come va? mi ha attaccato lo spaviglio allora sai adesso cosa voglio fare per rendere l'atmosfera ancora più rilassante e ancora più conciliante per il sonno aspetto un attimo che prendo prendo questo questo è un profumatore d'ambiente che serve per che si usa con gli ali essenziali si mette un pochino d'acqua e poi ci metto due o tre gozze di olio essenziale di lavanda ok ok sono sufficienti richiudo vi faccio partire vediamo per senti facciamo senti lo vedi il vapore? appoggiamolo qui intanto e vedi che emana un profumo buonissimo molto delicato fa questa lucina super rilassante che ha sempre colore e come vedi anche il vapore colorato verde verde scuro azzurro blu blu intanto senti anche l'acqua di bolle dentro bene e mentre ti rilassi io ho anche un libro per te guarda guarda che sorpreso guarda che sorpreso prima classe tipo più piccoli abbia bebe lascich amore per me le vore lo so, lo so che ti ritimi grande per queste storie, ma ti assicuro che in realtà sono per tutte le età e qui c'è la storia dell'isola del tesoro Robin Hood Merlino è il cavaliere della tavola rotonda e dai moschettieri il giro del mondo in 80 giorni e piccole donne quale vuoi? ma come Merlino anche io amo quella storia ma non so se riusciremo a leggerlo tutto adesso vediamo e poi vediamo la storia ma non so non so vediamo la storia ma non so non so non so non so ma non so robinotte ancora robinotte eccoci qui la nascita di Artù ok la nascita di Artù quando tutto è bene io ero già un mago piuttosto famoso aveva ereditato i miei porteri dal nonno che non era solo un mago ma anche un re un giorno il nonno mi fece chiamare e Merlino mi disse si nonno sono qui risposi ti ho visto Merlino non interrompermi poi continuò da ora tu avrai i miei poteri magici e poiché scritto nel tuo destino sarà il più grande mago di tutti i tempi il nonno mi era sempre sembrato un tipo un po' strano ma aveva ragione dopo pochi giorni non sto raccontare come fui coinvolto in un affare di draghi che buttavano fuoco dalle narici e in altre cose strane inoltre mi accorsi ben presto che potevo prevedere il futuro in men che non si dica ero il consigliere personale di re Uther Pettacron che abitava nel grande castello di Camelot una notte fece un sogno strano mi apparve un tipo che mi diceva Merlino tu educherai un re Artù figlio di Pettacron che compirà grandissime imprese quando nascerà dovrai portarle in un luogo sicuro lontano dalla reggia poi in segreto lo preparerai al suo grande e nobile destino mi sveglia di soprassalto perché allora non ero abituato alle visioni passo del tempo e tutto accadde proprio come avevo sognato Artù nacque in una notte d'estate mi conquistò subito fin dalla prima volta che l'ho preso in braccio faremo grandi cose insieme gli dissi portandolo lontano da Camelot affidai Artù mio amico il re Hector non gli spiegai chi fosse ma a lui non gli importava subito considerò Artù come un figlio ogni giorno l'andava a trovare erano tante le cose che doveva imparare prima di diventare re ma ad Artù non piaceva ascoltare le mie lezioni preferiva seguire Kay il figlio di Hector che sognava invece di diventare un grande cavaliere anche io voglio diventare cavaliere ripeteva Artù con un sguardo sognante Artù chi può dire quale sarà il tuo destino ribattevo per stare vicino a Kay Artù era diventato il suo scudiero quando Kay decise di partecipare al grande torneo annuale che si teneva a Camelot il giorno di Natale Hector e Artù vogliono accompagnarlo ovviamente per tenere d'occhio il mio protetto ci andai anch'io al torneo era presente tutta la nobiltà della Bretagna Kay era già pronto per il combattimento quando notò che gli mancava qualcosa Artù lo rimproverò dove è la spada scusa Kate la porto subito mormorò Artù poi si accorse che l'aveva dimenticata il castello che sciocco sono stato e adesso che faccio tra poco comincia il torneo pensava preoccupato quando in mezzo a una piazza vede una grossa pietra con sopra un incudine convicata nell'incudine c'era una spada scintillante Artù si avvicinò incuriosito poi lo afferrò è solo un presto momentaneo la restituirò finito il torneo pensò Artù torno subito del cavaliere stava per porgere la spada Kay quando si rector la vita e impallidì poi valbetto Excalibur Excalibur la spada magica Artù come hai fatto a prenderla Artù aveva in mano proprio Excalibur la magica spada e la rozza nella fretta di portare un'arma che aveva dimenticato di leggere la frase scritta sull'incudine chiunque riesca a estrarre questa spada diventerà re di Britannia i cavalieri risero Artù è di Britannia è troppo giovane se davvero è stato lui estrarre la spada che lo dimostri rimettendola al suo posto all'inizio all'inizio nessuno credeva che Artù avesse davvero estratto Excalibur così cavalieri principe dame si recarono in piazza e Artù rimese a posto la spada i più forti cavalieri cercano di sfilarla ma niente da fare alla fine Artù come se niente fosse la estrasse di nuovo e qui c'è l'immagine solo allora tutti si convinsero lunga vita il re acclamò la folla in coro finalmente dopo tanti anni senza una guida il popolo aveva un nuovo sovrano solo io non ero stupito da sempre sapevo che il figlio di Pendacron sarebbe diventato re di Britannia quella sera stessa ci fu un'incoronazione al castello di Camelot io ero commossa il legittimo re del trono occupava finalmente il posto che gli aspettava Artù se la cavò benissimo nel suo nuovo ruolo ma il grado alla giovane età dimostrava ogni giorno di essere saggio e coraggioso gli piaceva combattere per difendere i deboli e quando gli dissero che il Leodagan signore di Carmelite era minato da Claudas il rudere re della terra deserta non perse tempo subito organizzò una spedizione e partì verso il nord io avevo visto solo una volta Claudas e vi giuro che era davvero odioso quindi mi venivano in dire il piccolo esercito di eroi guidati dal mio signore dopo una lunga 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 cavalcata arrivammo al castello di Leodagan appena in tempo disse ad Artù l'esercito di Claudas era fuori dalle mura pronto all'assalto all'attacco gritò Artù squainando Excalibur ci fu una terribile battaglia il mio re e i suoi nobili soldati si batterono come leoni e vinsero intanto Ginevra la bellissima figlia di Leodagan osservava Artù dalle mura del castello ma lui era troppo impegnato per accorgersene finito il combattimento Leodagan corse da Artù giovane coraggioso re come potrò mai ringraziarti intanto permettimi di invitarti a cena ovviamente e invita anche questo signore con il vestito lungo e il cappello a cono aggiunse indicando Merlino il mio nome è Merlino riparte risentito mentre ci avviavamo verso la sala dei banchetti all'ingresso ci attendeva Ginevra la figlia del re quando Artù la vide rimase incantato non stare a bocca aperta come un pece mormorai allungandogli una comitata durante il banchetto Artù e Ginevra non fecero che guardarsi negli occhi sussorrandosi dolce parole a quanto pare il giovane re ha trovato la sua regina pensai intenerito e qui e qui c'è l'immagine della cena nei giorni seguenti Artù e Ginevra erano diventati a dir poco inseparabili a ogni banchetto erano seduti insieme e si guardavano tenere a mettere gli occhi Artù non avrebbe più voluto partire ma se dovessi dire lo chiamavano a Camelot che fare venne a chiedermi un consiglio io di sposi re di Britannia ancora hai tanto da imparare c'è solo una cosa da fare chiedi a Ginevra di diventare tua sposa Artù e Rossi facile a dirsi coraggio giovane re innamorato chiedile di diventare tua moglie poi lo spinsi verso il balcone Ginevra stava passando proprio di lì lui si avvicinò e valpetto qualcosa lei sorrise quando informai lei re Leodagan della cosa era tanto contenta che mi abbracciò oh che grande gioia la mia Ginevra il caro Artù per sempre insieme sospirò tra le lacrime attento Leodagan mi sta inzuppando la tunica di lacrime perché non sono mai stato un tipo sentimentale io subito giunsi partirò per Camelot per organizzare le nozze poche settimane dopo fu celebrato il matrimonio avuto un po' di problemi per trovare un regalatatto ma una notte mi apparve una fata secondo un'antica profezia Artù e Ginevra accoglieranno intorno a sé molti nobili cavalieri siederanno siederanno tutti intorno a un tavolo e giureranno di aiutare chiunque chiede il loro intervento e di cercare per un anno e un giorno chiunque dei cavalieri scompaia poi mi disse i nomi di tutti i cavalieri e sparì perciò il mio regalo fu un tavolo un enorme tavolo a forma circolare con centocinquanta sedie su ognuna delle quali feci scrivere il nome di un cavaliere quando i due sposi lo videro mi guardarono stupiti allora spiegai loro cosa serviva grazie Merlino di essere entusiasti sapremo fare buon uso del tuo dono il giorno successivo furono convocati a corte cavalieri il cui nome compariva sulle sedie accomodatevi disser tu sentendosi di fianco a Cinevra e poi in tono solenne proclamò ci sono ancora molte sedie vuote ma so che il destino porterà qui i cavalieri mancanti dichiarò aperta la prima seduta dei cavalieri della tavola rotonda e qui abbiamo un'immagine io direi che può bastare no? ci sono tantissimi altri capitoli veramente tanti artuta la strega Camilla l'angillotto difende Ginevra il rapimento di Ginevra ma penso che magari leggeremo la prossima volta d'accordo? bene adesso vedo che sei lì per dormire quindi adesso sai cosa facciamo? conterò da 15 a 0 pian piano le luci si abbasseranno fino a diventare buio 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 e poi finalmente avrei chiuso gli occhi ok ok quindi cominciamo ad abbassare le luci pian piano quindici quattordici tredici dodici undici dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno zero e buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte soñidoro 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 good night sweet dreams buenas noches dulces sueños buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte che gli spera Grazie.